Siamo alla Stilato Mugello a Borgo San Lorenzo e siamo con una nostra vettura chilometri zero, una Lancia Y900 bicilindrica 80 cavalli turbo a metano. La vettura è di giugno del 2014, clima telecomando autoradio. Vediamo anche gli interni. Lancia Y900 a metano, chilometri zero, giugno 2014 alla Stilato Mugello a Borgo San Lorenzo.